False dichiarazioni sull'identità e su qualità personali proprio di altri, violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale e ritrovamento di un'auto robata a un anziano agricoltore. Gli agenti del commissariato di Polizia di Ostuni, diretti dal vicequestore Francesco Angiuli, unitamente al personale del reparto Prevenzione e Crimine Puglia Meridionale di Lecce, hanno ottenuto questi risultati nell'ambito di un'attività di controllo nel territorio potenziata in occasione dell'inizio della stagione estiva e tesa a prevenire e reprimere reati di ogni genere. In manette è finito Alessandro Perney, 29enne di Bari, Iapigia. Nel pomeriggio di ieri, durante un'attività di controllo del territorio eseguita in una zona marittima, i poliziotti hanno notato Perney che si aggirava tra le numerose auto in sosta, prevalentemente di proprietà dei bagnanti. Dopo averlo bloccato ed interpellato in merito alle ragioni della sua presenza, il giovane si è dimostrato evasivo e ha fornito generalità, poi risultate completamente false. Durante una perquisizione personale è stata trovata nascosta in un marsupio la carta precettiva, il libretto rosso, che indicava la sottoposizione a sorveglianza speciale delle persone pericolose, intestato proprio ad Alessandro Perney, con alle spalle una lunga serie di precedenti penali e di polizia di varia natura, compresi i delitti contro il patrimonio. Concluse le formalità di rito, il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, ha disposto per il 29enne il trasferimento nel calcere di Brindisi. Il cellulare in suo possesso e l'altro materiale sono stati sequestrati per essere sottoposti a ulteriori indagini, tese a fare chiarezza sulla sua presenza nella Marina di Ostuni. Nella mattinata di ieri, invece, durante un posto di controllo attivato in contrada Platone, i poliziotti hanno notato una Fiat Panda di colore celeste con a bordo quattro persone, che alla vista degli agenti hanno eseguito una inversione di marcia tentando di fuggire. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi all'altezza di una curva dove i fuggitivi hanno abbandonato la Fiat Panda, fuggendo in diverse direzioni nei campi circostanti. Fino a quando hanno raggiunto una Volkswagen Golf di colore nero, sono saliti tutti e quattro a bordo e sono riusciti a fuggire. Sulla Fiat Panda, abbandonata, sono stati ritrovati evidenti segni di scasso. La stessa era stata rubata poco prima ad un anziano agricoltore talmente impegnato nei lavori agricoli che non si era accorto del furto avvenuto a poca distanza dal luogo in cui era stato attivato il posto di controllo. Al proprietario, messo in corrente di quanto accaduto, è stata riconsegnata l'auto, tra l'altro acquistata pochi mesi fa. Quando i poliziotti lo hanno informato, era ancora impegnato nel lavoro nei campi. Intanto la polizia ha avviato le indagini per l'individuazione dei responsabili del furto.